A Teramo la Via Crucis, organizzata nella caratteristica cornice del Teatro Romano, ha aperto le celebrazioni pasquali in città. E con la fine dello stato di emergenza ci saranno meno limitazioni rispetto allo scorso anno, anche se l'evento di ieri a Teramo, per ragioni logistiche, non è stato aperto alla libera partecipazione dei fedeli, che invece sarà garantita per tutte le altre celebrazioni che si svolgeranno fino al giorno di Pasqua. Domani, Domenica delle Palme, alle 18.15, la commemorazione del Signore all'ingresso di Gerusalemme. Nella chiesa di Sant'Antonio verranno benedette le palme e i fedeli si muoveranno in processione verso la cattedrale per la Santa Messa presieduta dal Vescovo Lorenzo Leuzzi. Per il 14 aprile, giorno del giovedì santo, l'appuntamento al Duomo è alle 10 per la Messa del Crisma e alle 18.30 per la Messa in cena d'omini e la successiva adorazione eucaristica fino alla mezzanotte. Il venerdì santo, alle 4 del mattino, torna alla tradizionale processione della Desolata, che dalla cattedrale toccherà la chiesa Cuore Immacolato, San Domenico, Santo Spirito, Madonna del Carmine, Madonna delle Grazie, Sant'Antonio e Santissima Annunziata, per fare rientro in cattedrale, caratteristico evento terramano che noi di Rete 8 riproporremo con uno speciale la sera del venerdì santo. Sempre il venerdì alle 15 il Vescovo presiderà la celebrazione della Passione del Signore. Nel pomeriggio del venerdì santo, alle 18.30, si svolgerà la processione del Cristo morto. I fedeli partiranno dalla chiesa della Santissima Annunziata attraversando, come da tradizione, il centro storico. Il 16 aprile alle 9 in cattedrale si terrà l'ufficio divino del sabato santo e alle 22 solenne veglia pasquale con il Vescovo Leuzzi. Infine, nella domenica di Pasqua, nel Duomo, le messe saranno celebrate alle ore 10.30, 12 e 19.